ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale in questo video vedremo come realizzare la texture di questo bellissimo punto coste un punto double fas come vedete molto elastico che mi crea una costa un po diversa dalle solite che troviamo è leggermente bombata ed è davvero molto molto elastica è un bellissimo punto che può essere realizzato utilizzato per costruire dei maglioncini dei rifinire dei maglioni a collo alto con una con una costa magari che poi verrà ripiegata per un bordo ripiegato di maglioni a collo alto e oppure anche delle delle sciarpe dei dei colli perché davvero è molto molto elastico risultato è molto leggero è un po tolto dal solito dai dai punti costa basici che troviamo di solito e che utilizziamo di solito per per rifinire i nostri capi conosciamo la maglia bassa lavorata in costa dietro che genera la fascetta ai bordi di colli di colletti si possono utilizzare sempre le mezze maglie alte lavorate in costa dietro ma di lavorazione di coste ne troviamo veramente tantissime adesso in questo video ve ne propongo ve ne propongo intanto una avviamo un numero di catenelle a piacere quindi numero di base di catenelle a piacere vi consiglio sempre per l'avvio della catenella iniziale un po per tutti i lavori di realizzarlo con un uncinetto un po più grande rispetto a quello che utilizzerete per la lavorazione poi principale del progetto che dovrete realizzare per esempio io l'avvio di questa catenella l'ho fatto con il numero 4 con l'uncinetto del numero 4 dopodiché lo sostituirò con l'uncinetto del 3 75 o 3,5 per la lavorazione qui utilizzo un uncinetto del 3 75 per dare morbidezza al ancora più morbidezza alla lavorazione del punto coste quindi montate un numero di catenelle di avvio a piacere e a partire dalla seconda maglia sull'uncinetto puntate l'uncinetto e portate fuori il filo o tre asole sull'uncinetto è come se dovessi lavorare una mezza maglia alta un gettato e passo tutte tutto il gettato attraverso tutte e tre le maglie nel chiudere le maglie vedete che si sono formate tre barrette una 2 questa centrale e 3 questa è la maglia lavorata sulla sommità il punto chiuso vedete la vi e ho queste tre barrette di lato punto l'uncinetto sulla barretta centrale delle tre un gettato e porto fuori il mio filo punto l'uncinetto sulla prima maglia di base disponibile attenzione non questa che è leggermente largata su cui ho già lavorato ma la prima quella successiva un gettato e porto fuori il filo o tre asole sull'uncinetto e le vado a chiudere con un gettato tutte e tre punto l'uncinetto nuovamente nella barretta centrale delle tre che si sono create gettato e porto fuori il filo punto l'uncinetto nella maglia di base successiva disponibile e porto fuori il filo e chiudo tutte tre le asole e lavoro così fino alla fin del giro quindi tutte le mie maglie di base disponibili sto terminando con l'ultimo punto di lavorazione del giro ed ho concluso la mia riga di lavoro due catenelle e si gira il lavoro a partire dalla seconda catenella del sull'uncinetto quindi questa è l'ultima che ho lavorato perciò questa vado a puntare l'uncinetto e porto fuori il filo ora lavoro sempre nell'asola posteriore della maglia quindi in costa dietro perciò per evidenziare la mia riga di lavoro questa è la riga è il risultato della riga precedente che ho lavorato che forma tutte queste piccole v la pizzico tra il pollice ed indice per evidenziarla vedete lavoro sempre in questa asola qui posteriore punto l'uncinetto e porto fuori il filo e con un gettato lavoro le mie tre asole riparto quindi punto l'uncinetto nella barrettina centrale delle tre che si sono formate chiudendo la maglia un gettato e porto fuori il filo punto l'uncinetto nell'asola posteriore della prima maglia di base disponibile e porto fuori il filo e procedo a lavorare tutto il mio giro perciò il risultato di questo bellissimo punto coste è dato da lavorando con giri di andata e di ritorno sempre allo stesso modo questo punto quindi ogni giro si lavora allo stesso modo alla fine del giro si fanno sempre due catenelle per voltare il lavoro e poi si procede lavorando puntando l'uncinetto nella nasolina centrale delle tre maglie risultate e nella prima maglia di base disponibile lavorando sempre nell'asola posteriore sto terminando il mio giro vi consiglio di posizionare sempre un marker alla fine del giro e uno nell'altro nell'altra estremità perché così mi verranno tenute in evidenza la prima e l'ultima maglia di lavoro e eviteri eviterete appunto di avere dei bordi disomogenei perché magari i giri di andata e di ritorno poi vi dimenticate o la maglia iniziale finale a volte possono rimpicciolirsi e nascondersi tenendo i marker eviterete appunto questi inconvenienti l'alternanza di questi due giri mi genera questo questa bellissima trama questo punto coste molto elastico e dubbe le fas e da anche morbidissimo come vedete una bellissima idea per poter realizzare dei maglioncini oppure per rifinire dei bordi di maglioni a collo alto per realizzare delle sciarpe dei colli è tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce a presto grazie ciao